Salve a tutti e soprattutto a tutte, intanto lo dico sempre e piace anche quando lo dico, no? Giusto? Bene. Però c'è gente là dietro che mi sta guardando come dire no no è giusto, è giusto. Allora sono alle porte di Perugia, Umbria, regione Umbria, un posto bellissimo, è un posto che amo, io venivo già da cliente per Umbria Jazz a seguire i concerti perché è lì dove proviene la sorgente e la mia musica che è black e sostanzialmente conosco molto bene questo territorio perché sono stato invitato più di una volta a Red Zone, storico, locale, house e quindi sono molto contento di tornare in questi luoghi dove ho vissuto la mia carriera da DJ pienamente negli anni 90, primi anni 2000. Sono tornato qua per realizzare un video con un team affiattatissimo di amici miei per un video di una canzone di house music, qua si torna a fare house ma sul serio, praticamente la canzone è una canzone un po' strana perché uso la lingua italiana per parlare di musica house e questa è una cosa che penso che non l'abbiamo fatto mai nessuno, infatti il titolo è musica house e questa idea l'ho avuta perché mi sono detto siccome in tutte le lingue c'è sempre stato qualcuno che ha parlato di musica house e nessuno l'ha fatto in Italia ma perché? Visto che l'Italia un tempo era comunque la capitale quasi mondiale della musica house a livello proprio di locali situazioni di grande stimolo musicale. E allora adesso cerco di ritirare fuori tutto quello che noi sappiamo fare da italiani per spingere questo genere musicale sul serio e allora ho messo in campo Michele Gentilini il mio chitarrista, abbiamo fatto un groove bello tosto, gli ho dato anche un tocco leggermente moderno se vogliamo ma non scomusolando tutto con Stone Willys da Parigi che è un mio carissimo amico e poi c'è Roberto Albini che ho messo in campo per i tipici suoni di quell'epoca praticamente il suono sax, il suono del pianofortino è un disco molto molto bello, tra l'altro sia Roberto che Stone hanno fatto dei remix molto belli uno un po' dub, un altro molto lounge e per il videoclip però ho scelto Perugia perché Perugia per me rimane, è stata, è una delle capitali mondiali della musica house ma ancora ora fa musica house e quindi secondo me bisogna ripartire da dove funziona ancora tutto il meccanismo house e sostanzialmente, secondo me non poteva essere un'altra città che Perugia, che amo, una città che amo questa è house music grazie a tutti